Se volete acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico, affidabile e velocissimo. Utilizzate il codice coupon che trovate in questa immagine per avere il 10% di sconto natalizio. Buona vigilia a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui con un nuovo episodio delle bestie nascoste. Oggi abbiamo altre tre bestie clamorose. Direi di partire subito, vi invito subito a lasciare un bel mi piace, cosicché possiamo passare un Natale tutti contenti con un sacco di mi piace. Comunque, partiamo subito con il primo giocatore, stiamo parlando di Findlay. Andiamoci subito a vedere qualche clip. Questo è un giocatore mostuoso, come potete vedere dalla carta, spicca quella velocità altissima e anche il tiro sopra il 60. Sappiamo tutti che il tiro sopra il 60 per un giocatore bronzo è qualcosa di allucinante, cioè allucinante, bello alto, in più lui ha una grande finalizzazione e quindi questo gli consente di essere oltre a un velocista e di saltare tutti gli avversari con grandissima facilità avere anche un tiro molto molto buono, una potenza tira abbastanza buona ma soprattutto un'ottima finalizzazione. Perciò, quando voi siete davanti al portiere, con tranquillità fate, penso, sempre gol perché davvero questo giocatore sbaglia relativamente poco. Io l'ho utilizzato precisamente in una squadra 4-1-2-1-2 come formazione di fianco a Oduro, quello con 94-95 di velocità quindi per farvi capire un po' che squadra devastante è il link comunque di tutte le squadre le trovate come sempre in descrizione e mi sono trovato da Dio, per cui se volete provare questo giocatore provate la MLS che ho fatto io, come ho detto prima, il link lo trovate in descrizione perché è davvero mostruosa, è velocissima come squadra in tutti i reparti quindi vi troverete bene. Ha anche un discreto longshot come giocatore tre stelle abilità, tre stelle piede debole che vanno abbastanza bene ecco, se avesse qualcosa di più magari anche solo in piede debole sarebbe ancora più forte l'unica cosa negativa di questo giocatore è il suo Wargate che è medio-medio, come quello di Ibarb per capirci per cui non fa tanti scatti in avanti dovete un po' farli manualmente facendo i passaggi, quelli tipo 1-2 però per il resto è un giocatore veramente mostruoso che vi consiglio di provare e che costa poco Andiamo con il giocatore argento stiamo parlando di Arizala che è un giocatore che mi avete chiesto in tanti vediamoci subito qualche clip di Arizala lui è un giocatore, anche lui velocissimo, colombiano gioca nella Liga Messicana quindi ci potete fare un sacco di ibride o comunque sia squadre colombiane o che ne so, quello che volete voi comunque il link lo trovate in descrizione della squadra che ho utilizzato io l'ho utilizzato in un 4-1-2-1-2 come attaccante di destra anche Findlay l'avevo usato come attaccante di destra mi sono trovato bene l'avevo utilizzato anche in un 4-4-1-1 come unica punta e mi ero trovato anche lì abbastanza bene ma più in un attacco a due secondo me è più adatto questo giocatore un giocatore che oltre ad avere una velocità gigantesca come vedete qui salta gli avversari con grandissima facilità in pochissimo tempo ha anche come si dice un ottimo tiro ha un ottimo tiro che gli consente di fare dei buoni long shot di essere molto diciamo di avere un'ottima finalizzazione davanti al portiere e poi la cosa secondo me migliore di questo giocatore è senza dubbio la sua abilità le sue 4 stelle abilità che lo rendono praticamente un funambolo della Madonna lui fa un sacco di skill per diciamo così eludere i difensori avversari e fare gol con grande facilità mi è piaciuto tantissimo utilizzarlo mi è stato consigliato da tantissimi di voi di provarlo comunque io già l'avevo utilizzato diverse volte ma non avevo mai avuto il modo di portarlo sul mio canale questo giocatore ora l'ho fatto e a chiunque non l'avesse mai provato consiglio di farlo costava tanto all'inizio del gioco adesso è sceso di molto il suo prezzo comunque si trova penso sui 2000-3000 massimo crediti quindi è un giocatore poco costoso ma che vi garantisce tanti gol tanti assist perché è anche comunque un buon passaggio e comunque sia l'unica cosa negativa anche per lui è il suo workout medio medio mentre andiamo a vedere il giocatore oro che non mi ha consigliato nessuno ma che io volevo provare sin dal primo giorno che è uscito FIFA 15 stiamo parlando di Manolo Gabbiadini vediamoci subito qualche clip Gabbiadini è sicuramente uno dei giocatori più sottovalutati di questo gioco vi giuro io non l'ho mai visto utilizzare da nessuno ma io vi assicuro che è bestiale io l'ho utilizzato in un 4-3-3-5 cioè quello col falso 9 appunto da falso 9 e mi sono trovato benissimo in quel modulo in quel ruolo devi avere un passaggio abbastanza alto perché devi permettere alle ali o ai centrocampisti offensivi di inserirsi mentre lui ha un 59 di passaggio se non sbaglio però mi sono trovato davvero bene fa dei buoni passaggi lo stesso quindi sembra un po' di più quel 59 sembra tipo sui 65 però adesso vi elenco secondo me quali sono i pro di questo giocatore allora ha una buona velocità anche se delle volte quando diciamo è da fermo ci mette un po' a partire però quando parte sembra davvero che abbia una grossa velocità tipo sugli 85-86 ma ha un tiro che è mostruoso allora davanti alla porta ricordatevi che è mancino davanti alla porta non sbaglia mai fa sempre gol o quasi sempre diciamo al 90% è gol soprattutto ha un tiro dalla distanza che è qualcosa di meraviglioso fa dei tiri che forse non è il migliore ma diciamo nella top 3 dei long shooter che io ho provato quest'anno davvero fa dei long shot che sono qualcosa di allucinante e comunque riesce a fare gol spesso anche di destro grazie alle sue tre stelle abilità che secondo me possono tranquillamente essere quattro guardate qui che è gol di long shot e guardate anche la prossima clip che fa davvero dei gol assurdi il link della squadra lo trovate in descrizione ha warcade d'attacco alto e basso di difesa per cui perfetto per un attaccante davvero provate questo giocatore l'ho pagato 450 crediti e davvero ne valsa davvero la pena ragazzi come sempre l'episodio finisce qui io come sempre vi invito a lasciarmi un bel mi piace vediamo se riusciamo ad arrivare a 400 mi piace come sempre vi invito a commentare lasciarmi un commento scrivendomi quali sono i giocatori che secondo voi dovrei provare che secondo voi sono delle bestie nascoste così io li proverò e vi ringrazio per tutti i commenti che mi avete fatto in questi episodi in questi primi episodi spero di riceverne altri ovviamente ragazzi noi ci vediamo al prossimo video vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale pagina facebook, twitter, instagram i link li trovate sempre in descrizione ci vediamo al prossimo video bella ragazzi vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale vi invito a iscrivervi al mio canale